Eccomi qua, buongiorno a tutti, oggi è lunedì, primo giugno, ok, allora, come desattivare il tracciamento del vostro smartphone? Allora, parliamo del coronavirus, parliamo che parlano tanto di questa app immunica, che chi lo installa poi ti ritraccia e poi ti mandano e poi possono ritracciarle e controllarti, cioè qua non si capisce un cavolo, cioè capiamo che è una impresa per rifondarle, se hai un po' di logica e ragionamento, tu vai con 100 persone e ti ritraccia, cosa fai? Ti fanno il centro controllo, io non credo proprio, comunque, a prescindere da questo che sia obbligatorio o no, ho il mio smartphone, adesso ve lo lancio nel computer e vi spiego come dovete andare a cliccare per disattivare il tracciamento. Però, premetto una cosa, scusatemi, ingrandisco un po', premetto una cosa, che a prescindere che voi, che gli altri abbiano installato l'app immuni, dovete sapere che il signor Zuckerberg, il proprietario di Google, e ha, a suo tempo, dopo l'invenzione del coronavirus, ha installato un'applicazione a nostra insaluta, che nessuno lo trova, nessuno sa che esiste, perché, ecco, bisogna trovare cose dal manettone a desistallare, non desistare, neutralizzarla. Adesso io lancio lo smartphone nel computer e vi faccio, la dimostrazione, come si fa a disattivarla, il tracciamento, compreso quello di Google, che tu ogni volta che ti sposti, che vai di qua, di là, magari cambia anche città, lui ti interessa, in quanto che, nel mio caso, ad esempio, una volta al mese, mi manda sull'email, la mia perché sono registrato su Google, con l'email, quindi mi manda tutti i tracciamenti che io ho fatto giorno per giorno, avendo appresso questo e avendo anche questa applicazione. Quindi io la neutralizzo, lui non deve sapere più, perché questi sono affari miei, non nessuno deve saperlo, chiaro? Perché potrei andare dal Papa, in visita, e lui io non vuole che lo sapi. Posso andare a, buttiamola così, a saltare con la banca, io non voglio essere intracciato, per cui, avete capito? Adesso ci scherzo anche sopra, però, è così. Allora, lancio Android, lancio il mio smartphone, sul computer. Un attimo. Eccolo qua. Ah, sì, bisogna che lo apra, questo è il mio smartphone. Lo apro, eccolo qua. Non sono solo la mia pagina Facebook. Chiudo, eccolo qua. Allora, dovete andare qua, sulla rotellina, la vedete questa? La rotellina questa? Questa? Cliccateci sopra. Ok. Adesso andiamo qua. Impostazione. Naturalmente vi da tutte le impostazioni, delle vostre impostazioni, le vostre smartphone, se sapete farlo. Di solito lo comprate, di default è tutto già a posto, ma se volete fare delle modifiche, cambiare la pagina, cambiare, qua avete tutte, ma, insomma, bene. Intanto dobbiamo eliminare il Bluetooth. Vediamo. Connessioni. Questo è il Bluetooth, vedete? Io l'ho disattivato, perché questo serve per collegare, chi va di smartphone, che è vicino, anche per eliminare il tracciamento. Qua serve per collegarmi con la stampante, riconosce il Bluetooth, serve a questo. Se volete, lo attivate. Però, in questo caso, che sto molto specifico, io lo disattivo bene. E fin qua? È la prima cosa che dovete fare. Ma potete sempre attivarlo, se siete a casa vostra. Il tracciamento a casa vostra, nessuno vi viene rintracciato, in quanto che vi rintracciano sempre con i lati i muri, e bisogna anche seguire qualcuno che passi nelle vicinanze, tipo il supermercato, ma faccio una casa mia, quindi devo collegarmi con il Bluetooth alla stampante. Bene, avete capito? Qua clicco su, vedete? Su Google. Vedete Google? Benissimo. Allora, ragazzi, io clicco stando qua, la stessa identica cosa. Google. Allora, a vostra insaputa, il signor Zuckerberg ha installato questo. Non c'era, non è mai stato. Però, da quando hanno inventato la pandemia, lui l'ha fatto in accordo. Clicchiamoci sopra e vediamo cosa è scritto di bello. Il tuo telefono deve essere in Bluetooth per raccogliere e condividere in modo sicuro le ID casuali di altri telefoni nelle vicinanze. Le ID casuali vengono eliminate automaticamente dopo 14 giorni. Dopo 14 giorni, figure. Andiamo avanti, leggiamo un po'. Vi lascio a voi. La geolocalizzazione dei dispositivi deve essere attiva per poter rilevare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Per le notifiche espositive ai Covid-19 non viene usata la pulizioni del dispositivo. Questo l'hai scritto tu. Però la realtà è ben diversa. Allora, ve la leggete voi. Io adesso esco e vado a trovare come si fa a neutralizzarla questa benedizione. Intanto abbiamo tolto Bluetooth. Avete capito che qua ha parlato del Bluetooth. Vado giù, qua sono tutte le vostre configurazioni del telefono. Se c'è la sede di smanitone e volete cambiare la pagina iniziale e tutte quelle cose, insomma. Bene, allora andiamo su sicurezza. Eccola qua. Questa è la sicurezza. Questa. Io lo faccio direttamente da qua. Eccola qua. Trovo il mio dispositivo. Ok. Io sono verso il smartphone, lo vedete. Clicco. Stradamente lo si apre. Eccola qua. Hola. Sì, ho cliccato in mezzo. Quindi io l'ho tolto. Vedete? Off. E poi qua si clicca. Lo posso vedere. Io l'ho disattivato. Per cui il rintracciamento è impossibile. Trovo il mio dispositivo. Clicco qua. E vediamo come funziona. Lui mi ha ritrovato. Sono in Italia, nel Veneto. Allora, qua è scritto qua. Il servizio Samsung Galaxy. Il servizio trova il mio dispositivo. Non è attivo. Ovviamente, perché io l'ho disattivato. Allora, andiamo ancora qua. Allora, facciamo un'altra prova adesso. Adesso lo riattivo. Clicco sopra qua. Vedete? Off. Lo metto su. On. Ecco. Adesso è attivato. Adesso sono ancora rintracciabile. Questo è il sistema. Avete visto come si fa? Allora, trovo il mio dispositivo qua. Cerco. Vediamo come funziona. Adesso. Ok. Localizzazione dispositivo. Ecco, il dispositivo è stato localizzato. Vediamo. Riproduci il suono qua. Vedete? Vediamo se... Notifichi. Questo è il mio telefono. Interrompe il suono. D'accordo. Chiudo qua. Adesso andiamo tornando a neutralizzare. Perché io non voglio essere rintracciato. Quindi torno indietro e lo metto su off. Tutto quale ci fosse. Basta. Chiudo. Il rintracciamento è impossibile. Quindi di conseguenza torno sul mio smartphone. Eccolo qua. Tutto qua ragazzi. Io chiudo. Un saluto a tutti. Da Gina Sprecio. Avevo fatto un video analevo più o meno. Me l'ho messo su Facebook. Facebook. È un social che ci navigano tutti. Ma preferisco caricarlo su YouTube. Mi seguono con più interesse. Perché le cose sono cose anche tecniche. E anche molto più interessanti di quello che si mette su Facebook. Questo è il mio punto di vista. L'ho butto in barra. Chiudo. Un saluto a tutti. Da Gina Sprecio. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.